Ciao mister, Massimo Canta di Carta Canta, l'analisi della partita l'hai già fatta, volevo andare su un altro giocatore di qualità, Gianluca Caprari, che mi sembra che sia molto più presente quest'anno in partita, è tanto sfortunato, però manca solo lui adesso. Sì, sì, sono d'accordo anche con questa domanda e questa considerazione soprattutto, Gianluca sta bene, fisicamente sta davvero bene, ha fatto un grande ritiro, lo vedo molto più pimpante, molto più dentro, lui è un ragazzo un po' introverso, quindi a volte si butta un po' giù, però sa che ha la mia fiducia, sa che è un ragazzo che comunque può fare ancora molto di più, perché ce l'ha nelle corde per poterlo fare, io lo stimolo ogni giorno, però sta facendo bene, davvero è un periodo che sono contento e secondo me a livello realizzativo, a livello di assist, a livello proprio di giocate, può fare ancora meglio, però sono contento della prestazione che ha fatto, è peccato, gli è mancato solo il gol oggi, però ha giocato tanto per la squadra e si è sacrificato anche in fase non possesso, quindi ha fatto davvero una grande prestazione.